Ci troviamo al della vittoria di via nazionale, gara di campionato provinciale categoria allievi, Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallorossa e il Ripa 2007 con la divisa rosso-verde. Adesso c'è una punizione al nostro favore, al limite dell'aria, di rigore avversaria, c'è Michele sul pallone, 0-0 fino a questo momento il direttore di gara della sezione AIA di Lanciano, il signor Saltarella. Bel tiro di Michele sul calcio di punizione ma deviato dal portiere ospite. Adesso sempre un calcio di punizione al nostro favore, sempre. Facile preda del portiere ospite, 0-0 il risultato fino a questo momento. Ecco, riprendiamo la palla. Questa una altra... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie